Presso il protocomento francescano di Castrovillari si è svolto il convegno dal tema La Giornata del Portatore di PaceMaker. Convegno questo è inserito all'interno del Terzo Congresso Nazionale Castro Cuore, preseduto dal Primario di Cardiologia presso l'ospedale di Castrovillari Giovanni Bisignani. Il Castro Cuore ormai è un evento fisso nel panorama della cardiologia italiana, è un congresso biennale, quindi questa è la terza edizione. Quest'anno riveste anche un carattere un po' particolare, per certi versi anche gratificante perché coincide con l'attivazione dell'emodinamico, quindi questo è veramente un grandissimo risultato. Abbiamo presentato i nostri risultati che anche se all'inizio come tutte le cose non sono molto numerosi, però l'auspicio è che il prossimo anno quando ci sarà l'altro congresso sicuramente avremo molto più da dire. È un appuntamento importante perché vede in questi due giorni un incontro con le esperienze di tutte le cardiologie italiane, quindi ci sono rappresentanti un po' da tutte le cardiologie italiane, uno scambio di esperienze, si farà il punto di ciò che la tecnologia offre, di ciò che la tecnologia offre ma sempre in confronto con la clinica. Quindi c'è da una parte l'ospedale che parla dell'esperienza ma dall'altra parte c'è anche il territorio che collabora, quindi è molto importante e nel congresso questo si evidenzia l'integrazione fra ospedale e territorio. L'ultima giornata è dedicata come sempre ai pazienti, quest'anno ci si festeggia, è dedicata ai portatori di pacemaker, quindi è la giornata dedicata ai portatori di pacemaker e poi ci sarà anche una parte nuova che è dedicata al bergamotto. Perché il bergamotto? Perché un professore dell'Università di Cosenza, il professor Sintona, ha isolato in questo frutto due statine. Cosa sono le statine? Sono quelle sostanze che si danno per abbassare il colesterolo, quindi queste statine sono statine naturali e l'Università ha scelto il nostro reparto per fare questo studio, è uno studio che sta partendo ma le premesse sono già buone, quindi credo e speriamo che alla fine per abbassare il colesterolo ci vorrà il bergamotto. Grazie a tutti.